Allora Pami io voglio fare un augurio speciale a tutti gli amici di TV Blog che sono sempre stati carini con me Dimmi Ma TV Blog non c'è più In che senso? Non esiste più TV Blog, c'è un altro blog, altro spettacolo Non ho capito, quindi i ragazzi che lavoravano su TV Blog, i giornalisti, adesso dove sono? Su altro spettacolo E' un altro blog? Esatto Ah vabbè ma allora cosa è successo? Nulla Cioè tutti i ragazzi che lavoravano su TV Blog, che scrivevano gli addetti ai lavori, adesso si trovano su un altro blog che si chiama Altro Spettacolo Ah vabbè allora facciamo gli auguri agli amici di Altro Spettacolo Agli amici di Altro Spettacolo E quindi facciamo gli auguri agli amici di Altro Spettacolo No lo dovevamo dire insieme Eh no tu non hai detto No lo dovevamo dire insieme Pami Vabbè non posso aspettare 10 ore e tu lo dico Quindi un augurio Speciale Di un fantastico Buon Natale E 2018 Dopo il Natale che c'è? C'è il Capodanno Il Capodanno Quindi questi ragazzi adesso si chiameranno Altro Spettacolo Quindi dal 2018 al posto di TV Blog ci sarà Altro Spettacolo Ciao ragazzi auguri Spaccate tutto come avete fatto fino ad oggi Ciao 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 Ciao